Siamo tornati a Mogadishu, la capitale della Somalia. Era il 2012, è stata l'ultima volta che siamo stati qua e siamo ritornati tre anni di distanza per cercare di descrivere com'è cambiata la realtà di questo paese. La situazione in questo momento non è affatto scura, stanno sparando tutti intorno. Non c'è assistenza, non c'è nulla, molti sognano loro e ora stanno cercando di sopravvivere. Manca cibo, manca assistenza medica. Grazie a tutti.